Unificare l'energia elettromagnetica significa definire la sua quantità di volume, in modo da definire l'energia di quel volume elettromagnetico, ossia della massa di quel volume elettromagnetico. E' possibile arrivarci attraverso un calcolo molto serio e riscontrabile nella sua verità. E' un calcolo reale, fattibile ed è il seguente. Bisogna prima precisare alcuni concetti. La quantità assoluta di ogni numero è data dalla potenza su base 10 di quel numero, dipendendo ogni numero dal ciclo di 10 unità. Questo dato assoluto indica l'azione, che poi è vista in modo relativo, attraverso l'azione uguale e contraria per il terzo principio chiamato di azione e reazione. Pertanto, se in unità atomiche angstrom, unità dello spazio atomico, noi abbiamo il volume di tutta la massa contenuta in 10 al cubo angstrom, e questa è la massa E elettrica, il suo inverso processo di calcolo, inverso a quello della potenza su base 10, dato dal logaritmo decimale di quella potenza 10 al cubo angstrom, è la massa magnetica, perché uguale e contraria alla massa elettrica. Contraria perché invece di essere una potenza che eleva 3, è il logaritmo della potenza 10 elevato a 3, che la riduce a semplice 3. Di conseguenza, il logaritmo di 10 al cubo angstrom per 10 al cubo angstrom, che è uguale a 3 per 10 al cubo angstrom al quadrato, è l'area della potenza elettromagnetica. Avendo assodato con certezza che il fronte elettromagnetico è dato da 3 per 10 al cubo angstrom al quadrato, il prodotto tra questa superficie che si muove per tutto il tratto elettrico, è dato da 3 angstrom per 10 al cubo angstrom per 10 alla 5 angstrom ed è uguale a 3 per 10 all'ottava angstrom al cubo. È un volume, è l'unità elettromagnetica nel suo volume e io lo chiamo c perché è un quantitativo. Esso si velocizza nel verso elettrico o magnetico se lo rapportiamo all'unità del tempo alla dimensione atomica, che è data da un secondo alla dimensione 10 alla meno 10. Riportando il tutto alla dimensione unitaria, ossia moltiplicando tutto questo quantitativo per 10 alla 10, otteniamo la dimensione unitaria C, grande, data da 300 milioni di metri al secondo. È un quantitativo unitario di massa che ha questa velocità che corrisponde all'interrezza del suo volume perché il fronte di avanzamento teorico è 1 al quadrato. Ora, avviando questa velocità sia nel tratto elettrico sia nel tratto magnetico, e sono in campo due velocità uguali e contrarie, noi ne abbiamo l'energia bilaterale perché mossa da una direzione, in un verso e nel verso opposto, simultaneamente. Quindi è un'energia che linearmente è di tipo esplosivo e si chiama C grande al quadrato, è unitaria nel quadrato di C grande, ossia in 9 per 10 alla 16 metri al quadrato ogni secondo quadrato. Io credo che non possano esservi dubbi. Ti potrebbe dire, ma non è vero che il fronte elettromagnetico è 3 angstrom per 10 al cubo angstrom? Perché non capisce come 10 al cubo, se si moltiplicasse per 10 al cubo, terrebbe conto solo dell'uguaglianza tra i due quantitativi e non del processo inverso tra l'uno e l'altro. e quindi non arriva a capire che se uno dei due è 10 al cubo, ossia una potenza in base a 10, l'altro deve essere il logaritmo decimale di quella potenza basata su 10, che contrasta a tal punto la potenza da togliere di mezzo la base della potenza, per unificazione e in modo da lasciare liberi solo quel 3 che diventano i tre versi di spazio, x, y, z, in cui la massa 10 al cubo elettrica può muoversi simultaneamente. Allora, il quantitativo totale della massa, diciamo, elettromagnetica, che possiamo considerare nel fronte, in questo modo di pensarla, è la massa 10 al cubo, però espressa in tutti e tre i simultanei avanzamenti x, y, z, che sono le tre dimensioni dello spazio. Ammassata questa massa simultanea elettromagnetica in un fronte, poi è evidente che lanciarla in tutta la direzione di tutto quanto il verso elettrico o magnetico significa lanciarla per 10 alla 5 angstrom. Anche qui non ci piove. Quindi il prodotto finale 3 per 10 alla 8 angstrom è veramente tutto il movimento che un fronte, che se è unitario possiamo immaginarlo 10 al quadrato, si muove nel 10 alla 10, che è la dimensione del metro. Infatti, dividendo 10 alla 10, ossia un metro, per il fronte 10 al quadrato, quando è unitario nel suo ciclo 10, lascia un possibile percorso totale che è di 10 alla 8. ma a questo punto bisogna considerare che questa dimensione di 100 milioni si deve muovere simultaneamente nei tre versi x, y e z dello spazio e diventa un quantitativo di 300 milioni di metri cubi di volume. Ora, io considero c grande il volume e questo numero è poi lo stesso se è lanciato nel fronte unitario di un metro quadrato perché se 300 milioni di metri cubi devono fluire ogni secondo ma sono obbligati a transitare per un metro quadrato rispettano il loro numero di 300 milioni tutto sulla terza dimensione.